Non vedo particolari problemi per l'attivazione del parto in acqua nell'ospedale di Sulmona. Ci sono i tempi tecnici da seguire. A parlare a Onda Tg e il direttore generale dell'Astra Vezzano-Sumona-L'Aquila, Rinaldo Tordera, a proposito dell'arrivo dell'attrezzatura per praticare il parto in acqua nel reparto di ostetricia e ginecologia. È stato l'assessore regionale della sanità, Silvio Paolucci, rannunciare alcuni mesi fa, proprio a Onda Tg, l'attivazione del parto in acqua, ma al momento è il punto nascita, non ancora dispone della vasca e del materiale necessario. I tempi non saranno brevissimi, ma i vertici della ASL e Tordera in primis rassicurano che il servizio sarà attivato. Prosegue nel frattempo il trend positivo del reparto, che in tre mesi ha triplicato i parti dell'anno precedente. Nell'ospedale dell'Annunziata, da gennaio ad oggi, sono nati 69 bebè in soli 86 giorni. A marzo 2016 si registrarono 7 parti, mentre a marzo 2017 i nati sono 20. I numeri cominciano a infondere fiducia, soprattutto nelle partorienti. La fase di rilancio del punto nascita comincerà da tempo. Recentemente anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha ribadito l'importanza di conservare il punto vita dell'ospedale Peligno.